Sicuramente una delle star di tutto il salone ECMA 2013, stiamo parlando della KTM 1290 Super Duke R, la regina vera delle Super Naked, infatti ha il motore più potente della categoria, stiamo parlando di ben 180 CV, pensate su una moto con il manubrio alto e senza il plexiglass. Questa è sicuramente un'arma da pista per la potenza esorbitante che ha e per le dotazioni ciclistiche che comprendono tra le altre cose anche delle pinze monoblocco radiali. Ma grazie all'elettronica evolutissima, già vista sull'Adventure e adattata qui per la Super Naked di Martin Goffin, si è riusciti anche a creare una perfetta moto stradale, sì perché grazie al manubrio alto e alla posizione è tutto sommato quasi comoda, riesce a essere una super sportiva da usare tutti i giorni. KTM non pensa solo agli smanettoni ma anche ai motociclisti in erba e così affianca alla best seller Duke la nuova RC 125. Questa moto ha i canonici 15 CV imposti dalla legge e pesa 139 kg ma sicuro un grande divertimento con una ciclistica veramente a punto e un impianto frenante potente dotato anche di ABS. Di questa moto esiste anche una versione 390 dedicata a chi è già un pochino più smalizziato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!